Gutierre! Oh grande! Ciao Biti, come stai? Tutto bene, tutto bene, alla stai grande. Abbi pazienza, ti ho chiamato al volo perché ti ho da spiegare questa cosa ganzissima. E che tu stai facendo? Sto facendo un album Badaganzo, si chiama il titolo così. Guarda, rispondo un attimo, va buono? Pronto? Oh, dimmi! Oh, ben via! Questo gli è convinto di essere la rincarnazione di Curso Malaparte. Perché gli è nati e non l'avevi intitolato a lui. Ma ben via! Guarda, arrivo subito, sono qui con Gutierrez e gli sto spiegando la cosa. Ma io non ho mia voglia di perdere questo tempo a fare queste vischerate. Buono? Vai, arrivo subito, vai! Ciao, 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 ciao! Oh, oh, ben via! Abbi pazienza, hai bisogno di saluti perché mi hanno chiamato per andare via. Ma di qua devi andare? Eh, scusami, ma... Guarda, ti mando tutto per mail. Vai! Eh, va buono, poi ci si senta. Abbi pazienza. Vai, vai, ok, a poco. Ciao, Gutierrez! Ciao, ciao! Badaganzo, si va. Ma che brebbra! E che si crede di fare questo? Boh!